La campagna di vaccinazione è partita sul territorio a febbraio, cominciando da anziani e categorie fragile a livello di patologie. Oggi 15 giugno una tappa importante, quella della vaccinazione alle categorie cosiddette socialmente fragili. Oggi qui nei locali della mensa della Caritas Diocesana, in via del teatro, nel centro storico di Pesaro, vengono vaccinate 38 persone senza fissa dimora in un accordo di collaborazione tra Caritas Diocesana e Asur di Pesaro. Oggi siamo qui perché la salute è veramente un diritto universale, finalmente lo possiamo affermare con forza, perché oggi qui in Caritas vengono vaccinate le persone senza fissa dimora, anche quelle che sono un po' invisibili alle istituzioni. E questo grazie alla grande collaborazione con l'Asur, con la sua direttrice Elisabetta Esposto, che ha mostrato una sensibilità particolare a questo tema e grazie a lei siamo riusciti a trovare la strada per tutelare la salute anche dei più deboli. 38 le persone vaccinate? Sì, sono 38, sono in parte le persone che abitano nelle nostre strutture d'accoglienza e altre che purtroppo in questo momento sono in alloggi precari o addirittura per strada. Il fatto di riuscire a vaccinare queste persone è anche un lato, un punto molto positivo perché ci permette anche di aumentare la capienza delle nostre strutture d'accoglienza. Avendo persone vaccinate riusciamo a garantire più posti letto e questo anche per la città intera è un punto di arrivo molto importante. Sono felice di questo giorno perché finalmente riusciamo a dare un ulteriore segnale di vicinanza, di accompagnamento, di compassione e di tenerezza, sono un po' le parole del Papa. Più di una volta il Papa ci ha sollecitato sul tema di non lasciare fuori nessuno da questo cammino anche legato alla pandemia e quindi tutti i vaccini e noi diciamo ecco proprio anche con la massima collaborazione, sensibilità e attenzione anche diciamo ecco dell'Asur locale e questo per noi è un grande segno di soddisfazione innanzitutto ma anche di speranza sulla capacità diciamo ecco di crescere sempre in una logica di realizzare una comunità dove nessuno è escluso, dove nessuno si sente marginato, dove nessuno si senta scartato e questo diciamo ecco si muove nel clima della costruzione di una vera fraternità umana e universale per tutti. Ad essere vaccinati ospiti di casa Tabanelli, casa Fra Arduino, casa Mariolina di Città della Gioia ma anche semplici frequentatori qui della mensa della Caritas di Ocesana, persone che sono state vaccinate con Pfizer ossiero Johnson & Johnson. Io oggi sono molto contenta di essere qua a vaccinare perché insomma è anche da un mesetto che volevo provare intanto abbiamo fatto questo lavoro con Caritas che ringrazio quello di trovare e cercare tutte le persone che sono senza fissa dimora che comunque sono presi in carico da Caritas ma anche da altre associazioni quindi un lavoro un po' impegnativo perché queste persone vanno trovate, vanno anche un po' informate e convinte loro non sono persone che hanno social o comunque leggono giornali quindi è più difficile praticamente cercarli e trovarli quindi siamo riusciti hanno mandato l'elenco le persone hanno codice fiscale ma in molti casi magari non vivono qua o sono residenti da altre parti in altri paesi del mondo ma il sistema poste adesso riesce a far pre accettare queste persone quindi appena ci sei riusciti sono venuta e abbiamo organizzato.